benvenuti ragazzi io sono greg x 08 oggi siamo in compagnia con kevin e oggi faremo una prova a non spaventarvi spaventarci la roba e iniziamo un pochino e poi la challenge contro di voi non no la challenge la facciamo noi con solo di voi la camera mi sono guardate questo video in giusto alle cuffie alzare non vuoi spegnere perché ci vuole il coraggio si è qua abbiamo spento le luci ragazzi non è vero tanto no, non ci voglio facciamo così chi è? oh porco chi è? chi è? sarà un fogliettino ma Giulio Antonio è qua buio che video è? eh ma è buio perché? oh eh ragazzi dovremmo un attimo un po' mai video perché non ce n'è troppo ragazzi fermiamo un attimo i video se no 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 Riccoglio cosa stai facendo? aspettate ragazzi ok ragazzi scusate c'era un piccolo problemino sì ma ragazzi c'è una certa notte dell'oro e non guardate sto a dire no non serve tu sei vedendo o sei usando il telefono io sono se tu hai problemi non è che c'è paura sono che forte non ho ma su non posso nessun no 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 non riesco no fermo no no non riesco no no ragazzi no 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 non ce la faccio fermo no gioooooooooooooo gio gio bene un poco chiesa mai i ragazzi che avevano video perchè Ehm... Ehm... No... Guardate, stai giocando il morso Sì! Cos'è? Questo video che faccio Non, che cosa? Perché si mette a ballare quando era una manovra? Guardate, stai giocando Non ha tanto senso Non muoio, il suo figlio Ragazzi, tutto faccio un nuovo Si vede Nooo Va muori, va muori Ehm... Scoppa video Vediamo il video piccolo Non è vero Si va porco Nooo, ferma Non si ferma Nooo, non si ferma più Ragazzi Questa casa è male di risa Sì No, sono fortina Ehm... Ragazzi Fortiniamo ancora un po' io C'è scritto a me per essere iscritti Sì Proviamo a affrontarti Ma quindi A me fa la piazza roba Ehm... 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 Su, chiamalo Ehm... Ehm... Sono spaventare Non so se fosse io C'è il fuoco Qual è il fuoco? Ehm... No, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi Vedi Non finirà mai più Amico Chi, chi? Ah... Chi, dai? Ma io sono figli Chi, chi, chi? Ma poco quella bambua ci ammazza Questa è questa scena horror Non è inquietante Cioè non è che fa paura Ragazzi vado Ma scherzo Ma perchè? Quale è il senore? Ragazzi scrivete nei commenti se avete il senore Shhh Non ho problemi questo Ragazzi Ragazzi Dai via voi 20 mi piace è impossibile Gregor compra il microfono Ok ragazzi No E se raggiungiamo i 5 mi piace Trova un video a casa bambinata E vi dico fa paura Vicente ha fatto 3 4 5 6 volte Non tanto Noi non ci fa paura Cioè Circo Fate sapere Com'è se vi siete spaventati Ma porco Come fate cazzare? No Allora ragazzi Ok Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciatevi un po' alci su Il canale e coniugio questo video su dove volete Vi lascio giù il link in descrizione E il mio instagram Ehm E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ok Ciao